Il Festival del Medioevo perché ha avuto il successo che ha avuto? Intanto perché non c'è una manifestazione. Il Festival del Medioevo non è una festa medievale, quelle sono tante, alcune molto belle, del campionato e tante altre. La cultura quindi può essere funzionale allo sviluppo di un territorio? Questa è anche una sfida per il mondo accademico, perché si tratta di parlare a un pubblico più vasto, quindi in operazioni corte e popolare insieme. Quindi il tema è quello di farsi capire e di divulgare. Con la cultura diciamo si mangia, si può mangiare. Grazie a tutti.